Ciao a tutti quanti e benvenuti ad un nuovo video Pausa Caffè Allora, oggi due avvenimenti di cui volevo parlare con voi che mi sono successi Allora, praticamente uno Madonna che buio Praticamente uno La gente, i turisti qui a Venezia di merda Che il mezzo di trasporto arriva, la gente deve scendere E tu fai le corse per pigliarti i posti migliori, quelli in punta, del vaporino Così ti vedi tutta la bella visuale che è una grande E già qui ho detto, ma porca puttana C'è una persona visibilmente e anche tanto disabile Con la sedia a rotelle E tu addirittura fai le corse quasi le taglie la strada Perché devi fare... Perché devi prenderti i posti Cioè veramente sei una merdona grande come una casa O gente che deve scendere appunto alla fermata E tu... Questa telecamera Ecco, sta telecamera oggi fa un po' la cazzona Gente che deve scendere e praticamente tu la spingi Perché devi salire a San Giorgio Sono salite due che sembravano le gemelle Kessler A 80 anni, vestite zebrate Cioè ma dove andate? Adesso sono in controluce e vai Ok, la seconda cosa che... Che mi dà un po' fastidio È praticamente Gente, magari compagni di classe Che non vedevo tipo da 10 anni Che mi hanno aggiunto su Facebook recentemente Della serie... Oh mio Dio Luca ma sei tu? Ma sei dimagrito? Cioè adesso... Ok, sì, sono dimagrito Avete visto anche il video Però la faccia Anche se prima era... I lineamenti restano gli stessi Gente che mi aggiunge su Facebook Assolutamente Gente che mi aggiunge su Facebook Perché vuole rilacciare i rapporti E poi a 30 cm non ti saluta Perché? Perché allora mi segui su Facebook Mi hai chiesto l'amicizia E tutto quello Cioè... No, a sto punto Tu continui la tua vita Io continuo la mia E chi se ne frega O almeno fai la bella figura Di almeno non commentare le foto Cioè comportati come contatto fantasma Uno di quelli che aggiunge Solo per avere più numeri di amici Cioè non lo so Va bene Questo era il nuovo video Pausa caffè del sabato Perché oggi è sabato Oggi sono di riposo E tutti te l'hanno in auspizio Ci vediamo in un prossimo video Vi auguro un buon weekend E ciao! Ciao a tutti Grazie a tutti.